Scene da Arancia Meccanica a Marano di Napoli, dove una rapina è stata messa a segno la scorsa notte all'interno di un'abitazione in via Torredentice. Quattro persone con il volto coperto e armate si sono introdotte nella casa di un 56enne del posto. I rapinatori hanno quindi radunato tutte le persone presenti in casa, marito, moglie e due figli, in una stanza e poi hanno tentato di portare via una cassaforte. I banditi si apprende dai carabinieri, hanno anche picchiato e minacciato le vittime, ma all'improvviso è scattato l'allarme e i quattro sono fuggiti. Subito dopo, sul posto, sono giunti i carabinieri della locale caserma. I componenti della famiglia sono stati medicati, per loro alcune contusioni e soprattutto tantissimo spavento. Quello che è accaduto a Marano rientra nella classifica dell'aumento di reati come sequestri per furti e rapina, così come indicato ieri nella conferenza stampa di presentazione dell'apertura dell'anno giudiziario a Napoli quando si sono snocciolati gli aumenti dei reati commessi nell'ultimo anno.